Appiacenea e RealGrid Europe stringono un accordo per ampliare la conoscenza e il ricorso alla soluzione della comunità energetica in cui produzione fotovoltaica e consumo di energia si svolgono in piccoli distretti di utenti associati. Le comunità energetiche sono un insieme di cittadini, imprese, pubblica amministrazione che producono e consumano energia prodotta da fonti rinnovabili per condividerne i benefici ambientali, sociali ed economici. Si può entrare come produttori e consumatori, i cosiddetti prosumer, oppure come soltanto consumatori dell'energia rinnovabile prodotta. Appia avrà un ruolo di gestire e dare una mano ai nostri associati per far sì che si possano costituire queste comunità energetiche in modo da fornire un servizio che poi possa essere utilizzato non solo dai nostri associati ma anche dai cittadini, dalle pubbliche amministrazioni. Inizialmente le comunità energetiche erano riservate ai soggetti che facevano capo a un'unica cabina secondaria di trasformazione dell'energia elettrica. Con i nuovi decreti si potrà utilizzare come punto di raccolta le cabine primarie, quindi ampliando il raggio di azione e il numero di soggetti che potranno parteciparvi. Il risparmio è molto importante innanzitutto per l'autoconsumo fisico se sono anche produttore di energia. Quindi se installo una fonte rinnovabile vedrò calare la mia bolletta per l'energia che ho prodotto. E poi invece la ripartizione degli incentivi previsti dal Ministero in questo momento sono 110 euro a megawatt per 20 anni, quindi una cifra molto importante dai 7 ai 9 euro per risparmio di oneri, che vanno anche questi ripartiti tra i cittadini che fanno parte della comunità energetica. Il documento fondamentale sarà, oltre alla costituzione dell'ente comunità energetico nelle forme previste dalla legge, quindi o associazione o fondazione o cooperativa, il documento del regolamento per la ripartizione degli incentivi e questo sarà proprio il cuore della comunità energetica.